C'è un problema di ASL per la riabilitazione domiciliare? Sono ancora in attesa di avere questo trattamento. Tutto ciò ricade sul carico delle famiglie anche a livello economico. Ci sono anche pazienti che devono avere i trattamenti a livello domiciliare, sono ancora in attesa. Immaginate che una persona anziana con una pensione minima non può avere questi trattamenti. Credo che sia un problema abbastanza grosso e che può incidere molto su quello che è anche la vita di queste persone. Perché immaginate che una persona anziana che non ha un'assistenza continuata è un grosso problema. Inoltre tengo a precisare che si doveva sbloccare questa situazione della riabilitazione, ma a quanto vedo e a quanto sento, contattando anche i vari centri, tutti comunicano che ci sono delle liste molto lunghe. Inoltre c'è un altro problema per quanto riguarda il discorso della rete. Questi centri non sono collegati tra di loro e non c'è neppure una piattaforma dove è possibile avere in tempo reale la situazione dei posti. E' pur vero che il paziente deve scegliere il centro di riabilitazione, ma è pur vero che manca una rete di comunicazione tra i vari centri e tra l'ASL. Credo che questo sia un problema molto serio e importante. E ci sono, ripeto, molte famiglie, anche con bambini autistici, con forme anche gravi, che non hanno ancora assistenza o quantomeno dei protocolli di intervento. Per quanto riguarda tutto l'aspetto psicopedagogico e riabilitativo. E' un discorso che ricade sulla collettività e credo che però è possibile risolverlo con delle giuste soluzioni attraverso anche i vari fondi europei, eccetera, eccetera. Grazie.